Ecco, ci aspettiamo una grande partecipazione da parte dei cittadini in queste quattro serate che adesso saranno illustrate dal nostro amico Fabio. Grazie. Allora, le serate sono quattro e giustamente il manifesto Don Marcello coinvolgeranno, per quanto riguarda l'organizzazione, tutte le pastorali che ruotano intorno alla nostra diocese. Il titolo delle serate è appunto il Germonti di Felicità. Questo è il filo conduttore che ci porterà per tutti e quattro le serate. La prima serata è organizzata dalla Consulta dei Laici, dove si genera una bellissima esperienza testimoniata da una tavola rotonda, dove molte associazioni della nostra diocese si testimonieranno come si può vivere nella quotidianità e si può essere testimoni di ciò in cui si crede.